Il cane non ce l'hai? Ce l'hai? Ah, e due? Ah, ma allora dovevi portarlo? Sì, ho saputo che erano una gara che fa, quella più giovane però perché c'era uno un po' vecchiosso, capito? E' davvero? Sì, c'è una chiesa, infatti quella è... Sì, c'era un po' vecchiosi, c'era un po' vecchiosi... Sì, c'era un po' vecchiosi... Sì, c'era un po' vecchiosi... Sì, c'era un po' vecchiosi... C'era un po' vecchiosi...